Scusate Pianza di spargere immondizia fa schifo Ehi Luca, te lo mangi quello? Dallo a me Vieni Pronto a chi parla? Elliot Davvero? Elliot C'è troppa confusione, quindi ti richiamo dopo Ok, ciao Ah, spegnete quegli affari, smettetela di sporcare A silenzio Grazie Allora, cate siglili, vi piacerebbe se la gente parlasse durante il nostro film? Bughelio, a cazzo di amici